la orla maupassant 8 maggio che stupenda giornata ho trascorso l'intera mattina disteso sull'erba davanti alla mia casa sotto l'enorme platano che la protegge e la ricopre completamente con la sua ombra amo questo paese e amo viverci perché qui ho le mie radici queste profonde e delicate radici che legano un uomo alla terra in cui sono nati e morti i suoi antenati che lo legano a quel che si pensa e a quel che si mangia ai costumi come ai nutrimenti ai modi di dire locali alla cadenza dialettale dei contadini agli odori del suolo dei villaggi e dell'aria stessa amo la casa in cui sono cresciuto dalle mie finestre vedo la senna che scivola lungo il mio giardino dietro la strada e pare quasi entrare dentro la mia casa la grande e larga senna che va da rouen alle havre coperte di battelli che passano a sinistra laggiù rouen l'ampia città dai tetti azzurri sotto una quantità di appuntiti campanili gotici sono innumerevoli fragili o massicci dominati dalla guglia di bronzo della cattedrale e pieni di campane che suonano nell'aria azzurra delle belle mattine scagliando fino a me il loro dolce e lontano brontorio di ferro il loro canto di bronzo che la brezza mi porge tanto più forte o fievole secondo che si risveglio si assopisca come era bella la mattina verso le undici un lungo convoglio di battelli trainati da un rimorchiatore grosso come una mosca che rantolava di fatica vomitando un fumo denso sfilò davanti alla mia inferriata dopo due golette inglesi il cui stendardo rosso ondeggiava contro il cielo veniva un superbo tre alberi brasiliano tutto bianco mirabilmente lustro e sfavillante lo salutai non so perché tanto mi fece piacere vederlo 12 maggio ho un po di febbre da qualche giorno mi sento sofferente o piuttosto mi sento triste da dove provengono quegli influssi misteriosi che cambiano in scolamento il nostro buon umore e la nostra serenità in angoscia si direbbe che l'aria l'aria invisibile sia piena di inconoscibili forze di cui subiamo la misteriosa vicinanza mi sveglio pieno di allegria con la voglia di cantare nella gola perché scendo lungo la riva del fiume e subito dopo una breve passeggiata rientro desolato come se qualche disgrazia mi aspettasse a casa perché è forse un brivido di freddo che sfiorando la mia pelle ha scosso i miei nervi e ha rabbuiato la mia anima è forse la forma delle nuvole o il colore del giorno il colore delle cose così mutevole che attraversando ai miei occhi ha sconvolto il mio pensiero chissà tutto quello che ci avvolge quello che vediamo senza guardarlo quello che sfioriamo senza riconoscerlo quello che tocchiamo senza percepirlo tutto quello in cui ci imbattiamo senza distinguerlo ha su di noi sui nostri organi attraverso di loro sulle nostre idee sul nostro stesso cuore effetti rapidi sorprendenti e inesplicabili com'è profondo il mistero dell'invisibile non possiamo sondarlo con i nostri sensi miserevoli con i nostri occhi che non sanno scorgere nel troppo piccolo nel troppo grande nel troppo vicino nel troppo lontano negli abitatori di una stella né quelli di una goccia d'acqua con le nostre orecchie che ci ingannano perché ci trasmettono le vibrazioni dell'aria come note sonore sono delle fate che fanno il miracolo di cambiare in rumore il movimento e mediante questa metamorfosi danno origine alla musica che trasforma in canto l'agitazione muta della natura col nostro odorato più debole di quello del cane con il nostro gusto che può a malapena distinguere l'età di un vino ah se avessimo altri organi che realizzassero in nostro favore altri miracoli quante cose nuove potremmo scoprire intorno a noi 16 maggio sono proprio malato eppure stavo così bene il mese scorso alla febbre una febbre atroce o piuttosto un'agitazione febbrile che rende la mia anima sofferente come il mio corpo ho continuamente la sensazione spaventosa di un pericolo incombente nel timore di una disgrazia che viene o della morte che si avvicina il presentimento che è senza dubbio l'attacco di un male ancora sconosciuto che germina nel sangue e nella carne 18 maggio ho appena consultato un medico perché non potevo più dormire mi ha trovato il polso rapido le pupille dilatate i nervi eccitati ma senza alcun sintomo allarmante devo assoggettarmi a fare delle docce e bere brumuro di potassio 25 maggio nessun cambiamento il mio stato veramente è bizzarro man mano che si avvicina la sera un'inquietudine incomprensibile mi pervade come se la notte nascondesse per me una minaccia terribile mangio presto poi cerco di leggere ma non riesco a comprendere le parole distingo appena le lettere mi metto allora a passeggiare nel mio salone in lungo e in largo sotto l'oppressione di una paura confusa e irresistibile la paura del sonno e la paura del letto verso le dieci salgo nella mia camera appena entrato da due mandate di chiave e metto il chiavistello di che cosa ho paura non temevo niente fino ad ora apro gli armadi guardo sotto il letto ascolto ascolto che cosa è strano che un semplice malessere forse un disturbo circolatorio l'irritazione di una terminazione nervosa un po di congestione una minuscola alterazione del funzionamento così imperfetto e delicato della nostra macchina vivente possa trasformare il più allegro degli uomini in un malinconico e il più ardimentoso in un codardo poi mi corico e attendo il sonno come se attendesse il boia lo aspetto con il terrore della sua venuta e il mio cuore batte le mie gambe fremono e tutto il mio corpo sussulta nel caldo delle lenzuola fino a che non cado di colpo nel sonno come ci si setta per annegarvisi in un pozzo di acqua stagnante io non lo sento arrivare come un tempo questo sonno perfido mi ha scosto accanto a me che mi spia che sta per afferrarmi la testa per chiudermi gli occhi per annientarmi così dormo per molto tempo due o tre ore poi un sogno anzi un incubo mi stringe mi rendo conto di essere a letto e di dormire lo sento e ne sono consapevole ma sento anche che qualcuno mi si avvicina mi guarda mi tocca sale sul mio letto si inginocchia sul mio petto mi prende il collo tra le mani e stringe stringe con tutta la sua forza per strangolarmi io mi dibatto legato a quell'atrocia impotenza che ci paralizza nei sogni vorrei gridare non posso vorrei muovermi non posso farlo e cerco con degli sforzi spaventosi ansimando di ricerarmi di respingere quest'essere che mi opprime che mi soffoca ma non posso farlo e improvvisamente mi sveglio sconvolto coperto di sudore accendo una candela sono solo dopo questa crisi che si ripete ogni notte dormo infine tranquillamente fino all'aurora il mio stato si è ancora aggravato che ho dunque il bromuro non fa effetto le docce nemmeno nel pomeriggio per affaticare il mio corpo già così stanco sono andato a fare un giro nella foresta di omar ho creduto dapprima che l'aria fresca leggera dolce piena di odore d'erba e di foglie mi riversasse nelle vene sangue nuovo nel cuore un'energia nuova presi un grande sentiero di caccia poi girai verso la buil per un viale stretto tra due schiere di alberi smisuratamente alti che interponevano un tetto verde spesso quasi nero tra il cielo e me un brivido mi colse immediatamente non un brivido di freddo ma uno strano brivido d'angoscia affrettai il passo irrequieto per essere solo in quel bosco impaurito senza ragione stupidamente dalla profonda solitudine di colpo mi perve di essere seguito che qualcuno mi tallonasse così vicino da toccarmi mi voltai bruscamente non ero solo non vidi dietro di me che il diritto e largo viale profondo angosciosamente vuoto che anche dall'altro lato si stendeva a perdita d'occhio identico spaventoso chiusi gli occhi perché mi mise a girare su un tallone velocissimo come una trottola stavo quasi per cadere riaprì gli occhi gli alberi danzavano la terra ondeggiava dovetti sedermi poi non sapevo più da dove ero venuto bizzarra idea bizzarra non sapevo più niente mi diresti sul lato che si trovava alla mia destra e tornai sul sentiero che mi aveva condotto in mezzo alla foresta 3 giugno la notte è stata orribile sto per andare via per qualche settimana un viaggio senza dubbio mi rimetterà in salute 2 luglio sono rientrato guarito d'altra parte ho fatto un'escursione affascinante ho visto monse michel che non conoscevo che visione quando si arriva come me ad avranche sul finire del giorno l'abitato si trova su una collina e mi hanno condotto ai giardini pubblici all'estremità della città ho lanciato un grido di stupore una baia smisurata si stendeva davanti a me a perdita d'occhio tra due coste allargate che si perdono in lontananza tra le brume e in mezzo a questa immensa baia gialla sotto un cielo d'oro e di luce si elevava scuro e a guzzo un monte strano in mezzo alle sabbie il sole era appena scomparso e sull'orizzonte ancora fiammeggiante si disegnava il profilo di questa fantastica rupe che porta sulla cima un fantastico monumento all'alba mi mossi verso di lei il mare era basso come la sera del giorno prima e guardavo a ergersi davanti a me man mano che mi avvicinavo la sorprendente abbazia dopo diverse ore di cammino raggiunsi l'enorme blocco di pietre che porta la piccola città dominata dalla grande chiesa dopo essermi inerpicato sulla strada stretta e ripida entrai nella più ammirevole dimora gotica costruita da dio sulla terra basta come una città piena di basse sale schiacciate dalle volte e di alte gallerie che sostengono fragili colonne entrai in quel gigantesco gioiello di granito leggero come un merletto coperto di torri di agili guglie dove salgono delle scale a chiocciola che lanciano nel cielo blu del giorno nel cielo nero della notte le loro teste bizzarre irte di chimere di diavoli di animali fantastici di fiori mostruosi e unite l'una all'altra da sottili archi lavorati quando arrivai sulla cima dissi al monaco che mi accompagnava padre come dovete star bene qui lui rispose c'è molto vento signore e ci mettemmo a parlare mentre guardavamo salire il mare che correva sulla sabbia e lo ricopriva di una corazza d'acciaio così il monaco mi raccontò delle storie tutte le vecchie storie di quel luogo leggende e ancora leggende una di esse mi colpì in modo particolare la gente del paese quelli del monte asseriscono che si senta parlare di notte tra le sabbie perché si sentono belare due capre una con voce forte l'altra con voce fievole gli increduli affermano che sono le grida degli uccelli di mare che assomigliano talvolta a belati e talvolta a lamenti umani ma i pescatori che rientrano a casa più tardi giurano di aver incontrato girandosi sulle dune tra due maree intorno alla piccola città gettata così lontano dal mondo un vecchio pastore la cui testa coperta dal mantello non appare visibile e che conduce camminando davanti a loro un capro dal viso umano e una capra con una testa di donna entrambi con lunghi capelli bianchi che parlano senza tregua lamentandosi in una lingua sconosciuta e che poi smettono improvvisamente di gridare per belare con tutta la loro forza chiesi al monaco ci credete mormorò non lo so continuai se esistessero sulla terra altri esseri oltre a noi perché mai non li conosceremmo da tempo perché voi non li avreste mai visti perché non li avrei mai visti neanch'io rispose non è forse vero che vediamo solo la centomillesima parte di quello che esiste ecco qua il vento che è la più grande forza della natura che fa cadere gli uomini abbatte gli edifici sradica gli alberi solleva il mare in montagne d'acqua distrugge le rocce e scaglia contro gli scogli i grandi bastimenti il vento che uccide che sibila che geme che mugisce l'avete mai visto e potete vederlo tuttavia esiste da qui di fronte a quel semplice ragionamento quest'uomo era un saggio o forse uno sciocco non avrei potuto affermarlo con certezza ma tacqui quello che stava dicendo l'avevo pensato spesso 3 luglio ho dormito male certo c'è qui un influsso terribile perché il mio cocchiere soffre del mio stesso so male ieri nel tornare a casa avevo notato il suo pallore singolare gli domandai cosa avete c'è o che non riesco più a dormire signore sono le mie notti che mangiano i miei giorni dalla partenza del signore mi ha preso come un sortilegio altri domestici intanto stanno bene ma io ho una gran paura di avere un altro attacco 4 luglio certamente sono stato ripreso i miei vecchi incubi ritornano stanotte ho sentito qualcuno piegato su di me e che con la bocca sulla mia beveva la mia vita dalle mie labbra sì la succhiava nella mia gola come avrebbe fatto una sanguisuga poi si è alzato sazio e allora mi sono svegliato talmente distrutto rotto annientato da non potermi più muovere se continuerai in questo modo ancora per qualche giorno ripartirò di sicuro 5 luglio ho perso la ragione quello che è successo la scorsa notte è talmente strano che la mia testa si sbarrisce quando vi penso come faccio adesso ogni sera avevo chiuso la porta a chiave poi avendo sete ho bevuto mezzo bicchiere d'acqua e ho notato per caso che la caraffa era piena fino al tappo di cristallo mi coricai subito dopo e ricaddi in uno dei miei sogni spaventosi da cui fui liberato dopo due ore circa da un'emozione ancora più terribile immaginate un uomo addormentato che venga assassinato e che si svegli con un coltello in un polmone che rantoli coperto di sangue che non possa più respirare che sta morendo senza comprendere ecco è così dopo aver infine riacquistato la ragione ebbe nuovamente sete accesi una candela e mi appoggiata la mia caraffa ma sollevai piegandola verso il bicchiere non scese niente era vuota era completamente vuota da prima non compresi poi di colpo senti un'emozione così terribile che dovetti sedermi o piuttosto che caddi su una sedia poi mi risollevai con un salto per guardarmi intorno poi mi sedetti di nuovo smarrito per lo stupore per la paura davanti al cristallo trasparente lo contemplavo con gli occhi fissi cercando di indovinare le mie mani tremavano qualcuno aveva dunque bevuto l'acqua chi io senza dubbio potevo essere stato solo io ma allora io ero sonnambulo vivevo senza saperlo di quella doppia vita misteriosa che fa pensare che vi siano due esseri in noi o che un essere estraneo inconoscibile invisibile animi a momenti quando la nostra anima intorpidita il nostro corpo prigioniero che obbedisce a quest'altro come a noi stessi più che a noi stessi chi comprenderà la mia angoscia orribile chi comprenderà l'emozione di un uomo sano di spirito vendesto pieno di senno che guarda spaventato attraverso il vetro di una caraffa un poco d'acqua scomparsa mentre lui dormiva e così rimasi là fino a giorno senza osare di mettermi a letto sei luglio sto impazzendo qualcuno ha ancora bevuto la mia caraffa stanotte o piuttosto io stesso l'ho bevuta ma sono stato io chi sarà chi mio dio sto impazzendo chi mi salverà 10 luglio ho appena fatto degli esperimenti sorprendenti certamente devo essere pazzo ma tuttavia il 6 luglio prima di andare a letto ho sistemato sul mio tavolo vino latte acqua pane e fragole qualcuno ha bevuto io ho bevuto tutta l'acqua e un po di latte non sono stati toccati nel vino nel pane nelle fragole il 7 luglio ho ripetuto lo stesso esperimento che ha dato il medesimo risultato l'8 luglio ho eliminato l'acqua e il latte non è stato toccato niente il 9 luglio infine ho rimesso sul tavolo solamente l'acqua e il latte avendo cura di avvolgere le caraffe con panni di mussola bianca e di legare i tappi poi ho sporcato le mie labbra la barba e le mani con della mina di piombo e sono andato a letto e invincibile sonno mi ha colto seguito presto dall'atroce risveglio non avevo spostato niente i miei stessi vestiti non recamano segni mi lanciai verso il tavolo i panni che chiudevano le bottiglie erano rimasti immacolati slegai gli spaghi tremando di paura tutta l'acqua era stata bevuta tutto il latte era stato bevuto oh mio dio parto subito per parigi 12 luglio parigi avevo dunque perso la testa i giorni scorsi dovevo essere lo zibbello della mia immaginazione agitata a meno che io non sia veramente sonnambulo o che abbia subito uno di quegli influssi evidenti ma inesplicabili che si chiamano suggestioni in ogni caso il mio vaneggiare rasentava la demenza e 24 ore di parigi sono bastate per rimettermi in sesto ieri dopo varie escursioni e visite che mi hanno fatto circolare nell'anima un'aria nuova e vivificante ho concluso la mia serata al teatro francois vi si rappresentava una commedia di alexandre dumas figlio e quello spirito vivace e robusto ha completato la mia guarigione certo la solitudine è pericolosa per le menti che lavorano abbiamo bisogno attorno a noi di uomini che pensino e che parlino quando rimaniamo soli per molto tempo popoliamo il vuoto di fantasmi sono rientrato in albergo molto allegro attraverso i boulevard nel pieno della fulla pensavo non senza ironia ai miei terrori alle mie supposizioni della settimana passata perché ho creduto sì ho creduto che un essere invisibile abitasse sotto il mio tetto com'è debole la nostra testa e come si sgomenta e smarrisce subito quando un piccolo fatto incomprensibile ci colpisce invece di concludere con queste semplici parole non capisco perché la causa mi sfugge immaginiamo immediatamente i misteri spaventosi e potenze soprannaturali 14 luglio festa della repubblica sono andato a spasso per le strade i petardi e le bandiere mi divertivano come un bambino è tuttavia molto stupido essere allegri a data fissa per decreto del governo il popolo è un greggio imbecille talvolta stupidamente paziente talvolta ferocemente ribelle gli si dice divertiti lui si diverte gli si dice va a combattere il tuo vicino lui va a combattere gli si dice vota per l'imperatore lui vota per l'imperatore poi gli si dice vota per la repubblica e lui vota per la repubblica quelli che lo dirigono sono altrettanto cretini ma invece di obbedire a degli uomini obbediscono a dei principi che non possono essere che sciocchi sterili e falsi per il fatto stesso di essere principi cioè idee reputate certe e immutabili in questo mondo di cui non si assicuri di niente poiché la luce è un'illusione poiché il rumore è un'illusione 16 luglio ho visto ieri cose che mi hanno fortemente turbato pranzavo da mia cugina madame sablé il cui marito comanda il 76esimo cacciatore a limoges mi trovavo a casa sua con due giovani donne di cui una ha sposato un medico il dottor parent che si occupa molto delle malattie nervose e delle manifestazioni straordinarie che producono proprio ora gli esperimenti sull'ipnotismo e la suggestione il dottore ci raccontò a lungo i risultati prodigiosi ottenuti da alcuni studiosi inglesi e dai medici della scuola di nancy i fatti che gli espose mi sembrarono talmente bizzarri che mi dichiarai del tutto incredulo noi siamo affermava sul punto di scoprire uno dei più importanti segreti della natura voglio dire uno dei suoi più importanti segreti su questa terra perché ne ha certo anche di maggiore importanza laggiù nelle stelle da quando l'uomo pensa da quando sa dire scrivere il suo pensiero si sente sfiorato da un mistero impenetrabile da parte dei suoi sensi grossolani e imperfetti e si sforza di supplire con lo sforzo della sua intelligenza all'impotenza dei suoi organi quando quest'intelligenza rimaneva ancora allo stato rudimentale l'ossessione dei fenomeni invisibili ha preso delle forme stupidamente spaventose da questo sono nate le credenze popolari sul soprannaturale le leggende sugli spiriti erranti le fate gli ignomi e spettri direi anche la leggenda di dio perché le nostre concezioni dell'operaio creatore da qualunque religione ci provengano sono proprio le invenzioni più mediocre le più stupide le più inaccettabili uscite dal cervello impaurito delle creature nulla di più vero della frase di voltaire dio ha fatto l'uomo a sua immagine ma l'uomo non è stato di meno ma da un po più di un secolo sembra di avere il presentimento di qualcosa di nuovo mesmer e alcuni altri ci hanno messo su una strada inattesa e così siamo arrivati davvero da quattro o cinque anni soprattutto a risultati sorprendenti mia cugina anche rai molto incredula sorrideva il dottor parent le disse volete che cerchi di addormentarvi signora sì certo lei si sedette su una poltrona e lui cominciò a guardarla fissamente incantandola io mi sentì subito un po turbato col cuore che batteva la gola stretta vedevo gli occhi di madame sablé appesantirsi la sua bocca contrarsi il suo petto ansimare dopo dieci minuti si addormentò mettetevi dietro di lei disse il medico mi sedette dietro di lei lui le mise tra le mani un biglietto da visita dicendole questo è uno specchio che cosa vi vedete dentro lei rispose vedo mio cugino che cosa fa si attorciglia i baffi e ora tira fuori dalla tasca una fotografia che fotografia la sua era vero la fotografia mi era stata consegnata la sera stessa in albergo come appare in questo ritratto sta in piedi con il cappello in mano dunque lei vedeva in questa carta in questo biglietto bianco come se avesse guardato in uno specchio le ragazze spaventate dicevano basta 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 ma il dottore ordinò vi alzerete domani alle otto poi andrete a trovare vostro cugino nel suo albergo e lo supplicherete di prestarvi 5.000 franchi che vostro marito vi domanda e che vi richiederà al suo prossimo viaggio poi la risvegliò entrando in albergo pensai a questa curiosa seduta e mi assalirono dei dubbi non certo sull'assoluta insospettabile buona fede di mia cugina che conoscevo come una sorella sin dall'infanzia ma su un possibile trucco del dottore non nascondeva forse nella mano uno specchio che mostrava la giovane donna addormentata insieme al suo biglietto da visita i prestigiatori di professione fanno cose altrettanto singolari rientrai dunque e mi coricai ebbene stamattina verso le otto e mezzo fui svegliato dal mio domestico che mi disse c'è madame sablé che chiede di parlare al signore subito mi vestì in fretta la ricevetti si sedette molto turbata con gli occhi bassi e senza alzare la veletta mi disse caro cugino ho un grande piacere da chiedervi quale cugina mi imbarazza molto dirvelo ma tuttavia è necessario ho bisogno assolutamente bisogno di 5.000 franchi su via voi sì io ho piuttosto mio marito che mi ha chiesto di trovarli ero così stupefatto che balbettavo le risposte mi chiedevo se veramente lei non si fosse burlata di me con il dottor parent se questa non fosse una semplice farsa preparata in anticipo e molto ben interpretata ma guardandola con attenzione tutti i miei dubbi si dissiparono infatti tremava d'angoscia tanto questo passo le era doloroso e compresi che aveva la gola piena di singhiozzi sapevo che era molto ricca e ribattei come vostro marito non ha 5.000 franchi a sua disposizione vediamo riflettete siete sicura che lui vi abbia incaricato di chiedermeli esitò per qualche secondo come se avesse fatto un grande sforzo per cercare nei suoi ricordi poi rispose sì sì ne sono sicura vi ha scritto esitò ancora riflettendo immaginai la fatica tormentosa del suo pensiero lei non sapeva lei sapeva soltanto che doveva chiedermi in prestito 5.000 franchi per suo marito quindi oso mentire sì mi ha scritto quando non mi avete detto niente ieri ho ricevuto la sua lettera stamattina potete mostrarmela no 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 conteneva delle cose intime troppo personali io l'ho io l'ho bruciata allora vuol dire che vostro marito fa dei debiti esitò ancora poi mormorò non lo so dissi bruscamente è che non dispongo di 5.000 franchi in questo momento cara cugina lei gettò una sorta di grido di sofferenza oh oh ve ne supplico se voi sapeste come soffro io ne ho bisogno oggi e vi pietà di lei vi avrete presto ve lo giuro gridò oh grazie grazie come siete buono ripresi vi ricordate di ciò che è avvenuto ieri a casa vostra sì vi ricordate che il dottor parent vi ha addormentato sì ebbene vi ha ordinato di venire a chiedermi stamattina 5.000 franchi e voi obbedite in questo momento a questa suggestione lei pensò per alcuni secondi e rispose ma è mio marito che richiede per un'ora intera cercai di convincerla ma non ci riuscì quando fu andata via corsi dal dottore stava per uscire mi ascoltò sorridendo poi disse ci credete ora sì è inevitabile andiamo dalla vostra parente lei sonnecchiava già su una poltrona sdraio prostrata dalla stanchezza il medico le prese il polso la guardò per un po con una mano levata verso i suoi occhi che lei chiuse a poco a poco sotto lo sforzo insostenibile di quella potenza magnetica quando fu addormentata vostro marito non ha più bisogno di 5.000 franchi state per dimenticare di aver pregato vostro cugino di prestarveli e se ve ne parlerà non capirete poi lo svegliò trassi dalla mia tasca un portafoglio ecco mia cara cugina ciò che mi avete chiesto stamattina lei fu talmente sorpresa che non osai insistere cercai di rinfrescarle la memoria ma lei negò con forza credete che mi burlassi di lei e mancò poco che andasse in collera ecco sono appena tornato a casa non ho potuto pranzare tanto questa esperienza mi ha sconvolto 19 luglio molte persone a cui ho raccontato questa avventura mi hanno preso in giro non so più che pensare il saggio dice è possibile 21 luglio sono stato a pranzo a bougival poi ho passato la sera al ballo dei cannottieri certo tutto tutto dipende dai luoghi e dall'ambiente credere al soprannaturale nell'isola della grenuille sarebbe il colmo della follia ma in cima al mont saint michel o in india noi subiamo spaventosamente l'influenza di ciò che ci circonda tornerò a casa la settimana prossima 30 luglio sono tornato a casa da ieri va tutto bene 2 agosto niente di nuovo fa un tempo superbo passo le mie giornate a guardar scorrere la senna 4 agosto discussioni tra i miei domestici affermano che di notte i bicchieri si rompano da soli nella credenza il cameriere accusa la cuoca chi accusa la lavandaia chi accusa gli altri due chi è il colpevole bravo chi lo scoprirà sei agosto questa volta non sono pazzo ho visto ho visto ho visto non posso più dubitare ho visto ho ancora freddo fino nelle unghie ho ancora paura fino alle midolle ho visto passeggiavo alle due all'aria aperta nella mia aiuola di rosai nel viale dei rosai d'autunno che cominciano a fiorire mentre mi fermavo a guardare un gigante delle battaglie che portava tra i fiori magnifici ho visto ho visto distintamente molto vicino a me il gambo di una di queste rose piegarsi come se una mano invisibile l'avesse ritorto poi spezzarsi come se la stessa mano l'avesse colto poi il fiore si sollevò seguendo una curva che avrebbe descritto un braccio nel portarla verso una bocca e rimase sospeso nell'aria trasparente sola immobile terrificante macchia rossa a tre passi dai miei occhi smarrito mi gettai su di esso per prenderlo non trovai niente era scomparso allora fui preso da una collera furiosa contro me stesso perché non è permesso ad un uomo ragionevole e serio avere simili allucinazioni ma si trattava proprio di un'allucinazione mi voltai per cercare il gambo e lo trovai immediatamente sull'arbusto spezzato di fresco tra le due altre rose rimaste sul ramo allora rientrari a casa con l'animo sconvolto perché sono sicuro ora sicuro come dell'alternanza dei giorni e delle notti che esiste vicino a me un essere invisibile che si nutre di latte e di acqua e che può toccare le cose prenderle e cambiarle di posto dotata di conseguenza di una natura materiale benché impercettibile per i nostri sensi e che abita come me sotto il mio tetto 7 agosto ho dormito tranquillo lui ha bevuto dalla mia caraffa ma non ha turbato il mio sonno mi chiedo se sono pazzo passeggiando talvolta sotto il sole lungo il fiume mi sono venuti dei dubbi sulla mia ragione non dei dubbi vaghi come ne avevo fino a quel momento ma bensì dubbi precisi assoluti ho visto dei pazzi ne ho conosciuto che restavano intelligenti lucidi capaci di veder chiaro anche su tutte le cose della vita tranne che su un punto parlavano di tutto con chiarezza con elasticità con profondità e improvvisamente il loro pensiero toccando lo scoglio della loro follia andava in pezzi si sparpagliava e sprofondava nell'oceano spaventoso e furioso pieno di onde saltellanti di nebbie di burrasche che viene chiamato demenza certo mi crederei folle assolutamente folle se non ne fossi cosciente se non conoscessi perfettamente il mio stato se non lo sondassi analizzandolo in modo completamente lucido io non sarei dunque che un allucinato che ragiona una turbolenza sconosciuta si sarebbe prodotta nel mio cervello una di quelle turbolenze che cercano di annotare e di precisare oggi i fisiologi e questa turbolenza avrebbe determinato nel mio spirito nell'ordine e nella logica delle mie idee una spaccatura profonda fenomeni simili hanno luogo nel sogno che ci conduce attraverso le fantasmagorie più inverosimili senza che ne siamo sorpresi perché l'apparecchio verificatore perché il senso del controllo è addormentato mentre la facoltà immaginativa è sveglia e lavora non può essere che uno dei tocchi impercettibili della tastiera cerebrale si trovi paralizzato dentro di me ci sono uomini che a seguito di un incidente perdono la memoria dei nomi propri o dei verbi o dei numeri oppure soltanto delle date gli indirizzi di tutte le particelle del pensiero sono oggi provati ora che ci sarebbe di strano se la mia facoltà di controllare l'irrealtà di alcune allucinazioni si trovasse intorpidita in questo momento pensavo a tutto questo seguendo il bordo dell'acqua il sole copriva di chiaro il fiume rendeva la terra deliziosa riempiva il mio sguardo di amore per la vita per le rondini la cui agilità è una gioia dei miei occhi per le erbe della riva il cui fremito è un piacere delle mie orecchie a poco a poco tuttavia un malessere inesplicabile mi penetrava una forza mi pareva una forza occulta mi intorpidiva mi bloccava mi impediva di andare più lontano mi richiamava indietro provavo il bisogno doloroso di rientrare che vi opprime quando si è lasciato in casa un malato che si ama e quando vi coglie il presentimento di un aggravarsi della sua malattia dunque rientrai mio malgrado sicuro che avrai trovato in casa una cattiva notizia una lettera o un telegramma non c'era niente è rimasi più sorpreso e più inquieto che se avessi avuto di nuovo qualche visione fantastica 9 agosto niente ma ho paura 10 agosto niente ma che accadrà domani 11 agosto ancora niente non posso restare in casa con questo timore e questo pensiero penetrati nella mia anima vado via 12 agosto alle 10 di sera per tutto il giorno ho desiderato andar via non ho potuto ho desiderato compiere quest'atto di libertà così facile così semplice uscire salire sulla mia carrozza per raggiungere la sua non ho potuto perché 13 agosto quando si è colpiti da certe malattie tutte le risorse dell'essere fisico sembrano spezzate tutte le energie annullate tutti i muscoli indeboliti le ossa sembrano divenute molli come la carne e la carne liquida come l'acqua io provo questo nel mio essere morale in una maniera strana e desolante non ho più nessuna forza nessun coraggio nessun dominio su di me nessun potere neanche di mettere in moto la mia volontà non posso più volere ma qualcuno vuole per me e io obbedisco 14 agosto sono perduto qualcuno possiede la mia anima e la governa qualcuno ordina tutti i miei atti tutti i miei movimenti tutti i miei pensieri non ho più potere su di me non sono che uno spettatore schiavo e terrorizzato di tutte le cose che faccio desidero uscire non posso lui non vuole e io rimango smarrito nella poltrona in cui mi tiene seduto desidero soltanto alzarmi sollevarmi per potermi credere padrone di me stesso non posso sono inchiodato alla mia sedia e la sedia incollata al suolo in maniera tale che nessuna forza si potrebbe sollevare ma imprevisamente devo 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 andare in fondo al mio giardino per raccogliere fragole per mangiarle ci vado raccolgo fragole le mangio oh mio dio mio dio mio dio mio dio c'è un dio e se ce n'è uno liberami salvami soccorrimi perdona pietà grazie salvami quale sofferenza quale tortura quale orrore 15 agosto certamente ecco come era posseduta e dominata la mia povera cugina quando era venuta a chiedermi in prestito 5000 franchi subiva una volontà estranea entrata in lei come un'altra anima come un'altra anima parassita e dominatrice forse il mondo sta per finire ma colui che mi governa chi chi è questo invisibile questo inconoscibile questo vagabondo di una razza soprannaturale dunque gli invisibili esistono allora come mai dall'origine del mondo non si sono ancora manifestati in modo preciso così come fanno con me non ho mai letto niente che assomiglia a ciò che è accaduto nella mia dimora se potessi lasciarla se potessi andarmene fuggire non tornare sarei salvo ma non posso ho potuto liberarmi oggi per due ore come un prisioniero che travi aperta per caso la porta della sua cella ho sentito di essere libero improvvisamente e che lui era lontano ho ordinato di attaccare in fretta i cavalli e ho raggiunto a guen che gioia poter dire a un uomo che obbedisce andate a guen mi sono fatto fermare davanti alla biblioteca e ho pregato che mi prestassero il grande trattato del dottor herman erestaus sugli abitanti sconosciuti del mondo antico e moderno poi al momento di salire nel mio coupé volevo dire alla stazione e ho gridato non ho detto ho gridato con una voce così forte da far voltare i passanti a casa e sono caduto folle d'angoscia sul cuscino della mia vettura mi aveva ritrovato e ripreso mi aveva ritrovato e ripreso 17 agosto che notte che notte e tuttavia mi sembra che dovrei rallegrarmi fino a luna del mattino ho letto herman hersthaus dottore in filosofia e in teogonia ha scritto la storia le manifestazioni di tutti gli esseri invisibili che vagano intorno all'uomo che sono sognati da lui descrive le loro origini il loro dominio la loro potenza ma nessuno di loro assomiglia a quello che mi pervade si direbbe che l'uomo da quando ha avuto la capacità di pensare ha previsto e temuto un essere nuovo più forte di lui suo successore in questo mondo e che sentendolo vicino non potendo prevedere la natura di questo padrone ha creato nel suo terrore tutto il popolo fantastico degli esseri occulti fantasmi incerti nati dalla paura dunque dopo aver letto fino a luna del mattino ero andato poi a sedermi presso la mia finestra aperta per infrescarmi la fronte e il pensiero al vento calmo dell'oscurità e stava bene l'aria era tiepida come mi sarebbe piaciuta quella notte in un altro momento non c'era luna le stelle avevano sullo sfondo del cielo nero scintillì i frementi chi abita quei monti quali forme quali viventi quali animali quale piante ci sono laggiù quelli che pensano in quegli universi lontani che cosa sanno più di noi uno di loro un giorno l'altro attraversando lo spazio non apparirà forse sulla nostra terra per conquistarla come normanni un tempo attraversarono il mare per asservire popoli più deboli siamo così fragili così disarmati così ignoranti così piccoli noi altri su questo granello di fango che gira diluito in una goccia d'acqua mi assopì sognando così al vento fresco della sera dunque dopo aver dormito per circa 40 minuti riaprì gli occhi senza fare un movimento svegliato da non so quale emozione confusa e bizzarra non vedi niente dapprima poi improvvisamente mi sembrò che una pagina del libro rimasto aperto sul mio tavolo si fosse appena girata da sola nessun soffio d'aria era entrato dalla mia finestra ne fui sorpreso rimaci in attesa circa quattro minuti dopo vidi vidi sì vidi con i miei occhi un'altra pagina sollevarsi e ricadere sulla precedente come se un dito l'avesse sfogliata la mia poltrona era vuota sembrava vuota ma compresi che era là lui seduto al mio posto e che leggeva con un balzo furioso un balzo da bestia ribelle che sta per sventrare il suo domatore attraversai la mia camera per rafferrarlo per stringerlo per ucciderlo ma la mia sedia prima che l'avesse raggiunto si rovesciò come se qualcuno fosse fuggito davanti a me il tavolo oscillò la lampada cadde e si spense e la finestra si chiuse come se un malfattore sorpreso si fosse lanciato nelle notte prendendo a piene mani battenti dunque si era salvato aveva avuto paura paura di me lui allora allora domani o dopo o in qualunque altro giorno io potrò dunque tenerlo sotto i miei pugni e schiacciarlo contro il suolo forse che i cani talvolta non mordono e non strangolano i loro padroni 18 agosto ho meditato per tutto il giorno o sì io ora gli obbedirò sarò consenziente ai suoi stimoli apparirò umile sottomesso timoroso lui è il più forte ma allora verrà 19 agosto so 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 tutto ho appena letto questo nella revue du monde scientifique una notizia piuttosto curiosa arrivata da rio de janeiro una follia una epidemia di follia paragonabili alle pazzie contagiose che colpirono i popoli d'europa nel medioevo infierisce in questo momento nella provincia di san paolo gli abitanti smarriti lasciano le loro case disertano i loro villaggi abbandonano le loro culture dicendosi perseguitati posseduti governati come bestiame umano da esseri invisibili benché tangibili una sorta di vampiri che si nutrono della loro vita durante il sonno e che bevono inoltre acqua e latte senza sembrar toccare nessun altro alimento il professor don pedro enriquez accompagnato da parecchi sapienti medici è partito per la provincia di san paolo al fine di studiare sul posto le origini e le manifestazioni di questa sorprendente follia e di proporre all'imperatore le misure che gli sembreranno più appropriate per richiamare alla ragione quelle popolazioni deliranti mi ricordo mi ricordo il bel trealberi brasiliano che passò sotto le mie finestre risalendo la senna lo scorso 8 maggio lo avevo trovato così grazioso così bianco così allegro l'essere mi si trovava sopra provenendo da laggiù dove la sua razza è nata e così mi ha visto ha visto anche la mia casa bianca ed è saltato dalla nave sulla riva oh mio dio ora lo so lo so lo immagino il regno del uomo è finito è venuto colui che prevedevano i primi terrori dei popoli primitivi colui che esorcizzavano i sacerdoti inquieti e gli stregoni evocavano nelle notti scure senza vederlo apparire ancora a cui i presentimenti dei padroni effimeri del mondo prestarono tutte le forme mostruose o graziose degli ignomi degli spiriti dei geni delle fate dei folletti dopo le grossolane concezioni della paura primitiva uomini più perspicaci l'hanno previsto più chiaramente mesmer l'aveva indovinato e i medici da da dieci anni hanno scoperto in modo preciso la natura della sua potenza prima che l'avesse esercitato lui stesso costoro hanno giocato con l'arma del nuovo signore il dominio di una misteriosa volontà sull'anima umana divenuta schiava hanno chiamato questa cosa magnetismo ipnotismo suggestione che ne so io li ho visti divertirsi come bambini imprudenti con questo orribile potere venturati noi sventurato l'uomo lui è venuto il il come si chiama mi sembra che mi gridi il suo nome ma io non lo sento il sì lui lo grida io ascolto non posso ripete l'orla ho sentito l'orla è lui l'orla è venuto l'avvoltoio ha mangiato la colomba il lupo ha mangiato la pecora il leone ha divorato il bufalo dalle corne a guzze l'uomo ha ucciso il leone con la freccia con la clava con la polvere da sparo ma l'orla sta per fare dell'uomo ciò che noi abbiamo fatto del cavallo e del bue la sua cosa il suo servo il suo nutrimento con il solo potere della sua volontà sventurati noi tuttavia l'animale talvolta si rivolta e uccide colui che l'ha domato anch'io voglio potrei ma bisogna conoscerlo toccarlo vederlo i sapienti dicono che l'occhio della bestia differente dal nostro non distingue come il nostro e così il mio occhio non può distinguere il nuovo avvenuto che mi opprime perché oh mi ricordo ora le parole del monaco di mont saint michel non è vero non è forse vero che vediamo solo la centomillesima parte di quello che esiste ecco qua il vento che è la più grande forza della natura che fa cadere gli uomini abbatte gli edifici sradica gli alberi solleva il mare in montagna d'acqua distrugge le rocce e scaglia contro gli scogli i grandi bastimenti il vento che uccide che simila che geme che muggisce avete mai visto e potete vederlo tuttavia esiste e pensavo ancora il mio occhio è così deboli così imperfetto che non distingue neanche i corpi duri e sono trasparenti come il vetro che è un vetro senza un velo di amalgama attraversi il mio cammino e lui mi ci fa gettare sopra come un uccello entrato in una stanza si rompe il capo sui vetri mille cose inoltre lo ingannano e lo sviano che c'è di strano allora se non può vedere affatto un corpo nuovo che è attraversato dalla luce un essere nuovo perché no doveva venire sicuramente perché dovremmo essere gli ultimi noi non lo distinguiamo affatto così come tutti gli altri creati prima di noi è che la sua natura è più perfetta il suo corpo più fine più rifinito del nostro il nostro così debole così maldestramente concepito ingombro di organi sempre stanchi sempre sollecitati come ingranaggi troppo complessi del nostro che vive come una pianta e come una bestia nutrendosi faticosamente d'aria d'erba di carne macchina animale in preda alle malattie alle deformazioni alle putrefazioni asmatica ma regolata primitiva e bizzarra ingegnosamente mal costruita opera grossolana e delicata a bozzo d'essere che potrebbe diventare intelligente e superbo ci sono così poche specie su questo mondo dall'ostrica fino all'uomo perché non una di più una volta concluso il periodo che separa le apparizioni successive di ogni specie diversa perché non uno di più perché non anche altri alberi dai fiori immensi scintillanti e che profumano intere ragioni perché non altri elementi oltre al fuoco all'aria alla terra e all'acqua sono quattro solamente quattro questi padri nutritori degli esseri che pena perché non sono quaranta quattrocento quattromila come tutto è povero meschino miserabile ha veramente concesso aridamente inventato goffamente costruito elefante l'ippopotamo che grazia il cammello quale eleganza ma direte voi la farfalla un fiore che vola io ne immagino uno che sia grande come cento universi con delle ali di cui non posso nemmeno esprimere la forma la bellezza il colore e il movimento ma lo vedo va di stella in stella rinfrescandole e profumandole col soffio armonioso e leggero della sua corsa e i popoli di lassù lo guardano passare estasiati e rapiti che ho dunque è lui l'orla che mi possiede che mi fa pensare queste follie lui è in me diventa la mia anima lo ucciderò 19 agosto lo ucciderò l'ho visto mi sono seduto ieri al mio tavolo e facevo finta di scrivere con molta attenzione sapevo bene che sarebbe venuto a girare attorno a me vicinissimo così vicino da poterlo forse toccare prendere e allora allora avrei avuto la forza dei disperati avrei avuto le mie mani le mie ginocchia il mio petto la mia fronte i miei denti per strangolarlo schiacciarlo morderlo dilaniarlo e stavo in agguato con tutti i miei organi sovraeccitati avevo acceso le mie due lampade le otto candele del mio camino come se avessi potuto in quel chiarore scoprirlo di fronte a me il mio letto un vecchio letto di quercia a colonne a destra il camino a sinistra la mia porta chiusa con cura dopo averla lasciata per molto tempo aperta per attirarlo dietro di me un armadio molto alto con uno specchio che mi serviva ogni giorno per radermi per vestirmi e dove ero abituato a guardarmi dalla testa ai piedi ogni volta che vi passavo davanti dunque facevo finta di scrivere per ingannarlo poiché anche lui mi spiava e subito mi accorsi fui certo che lui leggeva il di sopra della mia spalla che lui era là che sfiorava il mio orecchio mi alzai con le mani tese voltandomi così in fretta che stavo per cadere ebbene ci si vedeva come in pieno giorno ma non mi vidi nel mio specchio quest'ultimo era vuoto chiaro profondo pieno di luce la mia immagine non vi stava sopra eppure mi trovavo lì di fronte vedevo il grande vetro limpido dall'alto in basso e guardavo ciò con gli occhi smarriti e non osavo più avanzare non osavo più fare un movimento comprendendo bene tuttavia che lui era lì ma che mi sarebbe nuovamente sfuggito lui il cui corpo invisibile aveva divorato il mio riflesso quanto ebbe paura poi ecco di provviso cominciai a scorgermi entro una nebulosità in fondo allo specchio in una nebulosità come attraverso uno strato d'acqua e mi pareva che quest'acqua scivolasse da sinistra a destra lentamente rendendo più precisa la mia immagine di secondo in secondo era come la fine di un'eclisse ciò che mi nascondeva non sembrava possedere contorni nettamente definiti ma una sorta di trasparenza opaca che si schiariva a poco a poco potevo infine distinguermi completamente così come ogni giorno quando mi guardo l'avevo visto me ne è rimasto uno spavento che mi fa un cuore rividire 20 agosto ucciderlo come dal momento che non posso toccarlo il veleno ma mi vedrebbe mischiarlo all'acqua e i nostri veleni d'altronde avrebbero un effetto sul suo corpo invisibile no no senza alcun dubbio allora allora 21 agosto ho fatto venire un fabbro da rouen e gli ho ordinato per la mia camera delle persiane di ferro come ne hanno a parigi certi alberghi particolari al pian terreno per paura dei ladri mi farà inoltre una porta simile mi sono fatto prendere per un codardo ma ben in fischio 10 settembre hotel continental è fatta è fatta ma lui è morto ho l'animo sconvolto da quello che ho visto ieri dunque dopo che il fabbro aveva sistemato la persiana e la porta di ferro ho lasciato tutto aperto fino a mezzanotte benché cominciasse a far freddo di colpo ho sentito che lui era lì e una gioia una gioia folle mi ha preso mi sono alzato lentamente e ho passeggiato a destra e a manca per lungo tempo perché non indovinasse niente poi mi sono levato i miei stivaletti e messo le ciabatte con negligenza poi ho chiuso la persiana di ferro e tornando a passi tranquilli verso la porta ho chiuso anche la porta doppia mandata girandomi allora verso la finestra la fissai con un catenaccio di cui misi la chiave in tasca improvvisamente compresi che si agitava attorno a me che aveva paura a sua volta che mi ordinava di aprirgli fui sul punto di cedere non cedetti ma addossandomi alla porta la so chiusi giusto quanto bastava per passare io all'indietro e poiché sono molto alto la mia testa toccava l'architrave ero sicuro che non era riuscito a scappare e lo rinchiusi da solo da solo quale gioia era nelle mie mani allora scesi giù correndo presi nel salone sotto la mia camera e mie due lampade e rovesciai tutto l'olio sul tappeto sui mobili dappertutto poi vi misi fuoco e mi salvai dopo aver chiuso bene a doppia mandata il portone d'ingresso e andai a nascondermi in fondo al giardino in un boschetto di lauri quanto tempo ci volle quanto tempo tutto era nero muto immobile non un soffio d'aria non una stella solo montagne di nuvole che non erano visibili ma che pesavano sulla mia anima così opprimenti così opprimenti guardavo la mia casa e aspettavo quanto tempo ci volle credevo già che il fuoco si fosse spento da solo o che lui l'avesse spento lui quando una delle finestre in basso scoppiò sotto la spinta dell'incendio e una fiamma una grande fiamma rossa e gialla lunga molle carezzevole salì lungo il muro bianco e lo baciò fino al tetto un lucore corse si diffuse negli alberi nei rami nelle foglie e inoltre un brivido un brivido di paura gli uccelli mi svegliarono un cane si mise a ululare mi sembrò che il giorno si levasse due alte finestre scoppiarono presto e vedi che tutta la parte bassa della mia dimora non era più che uno spaventoso bracere un grido un grido orribile acutissimo straziante un grido di donna percorse le notte e due baini si aprirono avevo dimenticato i miei domestici vedi i loro volti impazziti e le loro braccia che si agitavano allora smarrito per l'orrore mi mise a correre verso il villaggio urlando aiuto aiuto al fuoco al fuoco incontrai delle persone che già stavano arrivando e ritornai con loro per vedere la casa ora non era più che un rogo orribile e magnifico un rogo mostruoso che rischiarava tutta la terra un rogo in cui bruciavano degli uomini e dove anche lui bruciava lui lui il mio prigioniero l'essere nuovo il nuovo padrone l'orla presto il tetto tutto intero sprofondò tra i muri e un vulcano di fiamme zampillò fino al cielo da tutte le finestre aperte sulla fornace vedevo la tinozza di fuoco e pensavo che lui era là in questo forno morto 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 forse il suo corpo il suo corpo che il giorno attraversava non era forse indistruttibile con i mezzi che uccidono i mostri e se non fosse morto forse solo il tempo appresa sull'essere invisibile e temibile perché questo corpo trasparente questo corpo inconoscibile questo corpo da spirito se dovesse temere anche lui i mali le ferite le infermità la distruzione prematura la distruzione prematura tutta la paura dell'uomo viene da lei dopo l'uomo l'orla dopo quello che può morire ogni giorno a tutte le ore in qualsiasi minuto per qualunque accidente è giunto colui che non deve morire che nel suo giorno alla sua ora al suo minuto perché ha raggiunto il limite della sua esistenza no no senza alcun dubbio senza alcun dubbio lui non è morto e allora allora bisogna dunque che io mi uccida